Ed eccoci qui con Gatto rappresentante degli Avogado che hanno subito una brutta sconfitta contro gli sparchiosi per 5 a 2. Buonasera. Buonasera. Allora vediamo te intanto come mai l'assenza del tuo presidente di Scuderi? Il presidente oggi era furioso e quindi è meglio che in questi momenti non si parli alla stampa anche perché voi siete molto fiscali nel registrare queste interviste e magari potrebbe dire qualcosa che poi danneggi la squadra. Quindi in questi casi il presidente si va a sfocare con i ragazzi e parla qualcuno che è più diplomatico. Il mio ruolo è anche questo. Senti a proposito del presidente ma anche per quanto riguarda la partita abbiamo visto dei rimproveri accesi contro Usmane ma effettivamente il presidente o comunque anche tu pensi che la colpa sia sua oppure è così un po' di frol crore possiamo dire? No vabbè diciamo che Usmane viene sempre incitato dal presidente che ce lo ha a cuore il suo pupillo e quindi lo sprona sempre. Oggi effettivamente non ha fatto una bella partita Usmane ma non è stato l'unico. Diciamo che tutta la squadra sembrava svogliata merito agli avversari che hanno dimostrato di avere gruppo e soprattutto hanno messo la partita un po' sullo scherzo all'inizio e hanno fatto bene perché hanno fatto calare la concentrazione ai nostri che già è difficile fargliela trovare e quindi poi alla fine il risultato è quello che è stato tra l'altro meritatissimo per gli avversari. Tu hai detto una cosa giusta prima. I tuoi avversari sembravano avere più gruppo. Forse è proprio questo che manca alla tua squadra. Comunque individualità di grande livello però poi nel complesso non riuscite a creare una mola di gioco all'altezza. Detto fatto quando ci sono le individualità però il gruppo non c'è perché fondamentalmente non è una squadra che si porta avanti dagli anni. I sparchiosi che negli anni sono chiamati in maniera diversa sono un gruppo solido, giocano sempre gli stessi, lavorano insieme forse alcuni. Quindi se non fanno gruppo loro è l'antitesi nostra, non è loro gruppo. Loro gruppo e noi siamo molto meno gruppi. Può essere troppe individualità di livello? Troppe prime donne? No, prime donne? Io ho visto tutte le squadre sono pieni di giocatori di talento e noi non penso abbiamo, forse a livello di pedigree o qualcuno in più effettivamente forse lo abbiamo avuto. Però no, penso che anche gli altri hanno le prime donne e il gruppo si fa sul campo e purtroppo non avendo giocato sempre gli stessi è normale che non ci sia ancora. Quindi anche una questione di giocare assieme che potrebbe essere favorita dalla qualificazione perché la classifica adesso non è tanto favorevole come prima però comunque la qualificazione la potete avere in tasca. Ma guarda, io ho imparato in questo torneo che nulla dare per scontato. Io questa partita sinceramente la vedevo come una vittoria facile nonostante il blasone della squadra avversaria e mi sono sbagliato. Quindi non vedo facile la qualificazione. Spero solo che una volta raggiunta, qualora dovessimo riuscirci, nelle partite decisive il gruppo esca perché poi quando è out-out io penso che queste individualità lo riescano a trovare. Oggi più che il gruppo è mancata pure la voglia. Io vedevo persone che non interessava vincere, perdere. C'è una cosa... Ci vuole una tirata d'orecchio. Esatto, speriamo che poi quando la posta aumenta queste individualità dimostrino di essere tali. Va bene, ringraziamo Gatto e alla prossima. Arrivederci. Ciao.